Il marketing non è cambiato, diversamente oggi in più si rafforza con nuovi strumenti digitali e scalabili e non è cambiato nemmeno l'obiettivo che rimane sempre quello di fatturare e non è cambiato nemmeno il modo in cui raggiungiamo questo obiettivo perché ci basiamo sempre sul caro e vecchio piano marketing che parte dall'analisi della domanda di trend, dalla domanda della concorrenza dall'analisi dei processi di acquisto dei nostri potenziali clienti e da qui definiamo il nostro posizionamento, cioè chi siamo per chi siamo e solo infine arriviamo alla definizione del piano operativo dove qui assolutamente i tool e i software hanno un ruolo principale perché ci permettono di raggiungere esattamente la persona in target ma il punto principale è che si deve partire dall'analisi e poi stabilisce la strategia che a sua volta fa emergere in modo naturale gli strumenti da utilizzare quindi il marketing è consapevolezza del mercato e dei bisogni del cliente oggi sempre più il marketing è metrica perché ogni interazione dell'utente produce dati e grazie al pixel è come se avessimo dei database interattivi sempre aggiornati possiamo sapere tutto su chi ha visitato il nostro sito, su chi ha comprato e sempre più il marketing è informazione e non manipolazione il marketing è un percorso di consapevolezza in grado di trasformare un utente in cliente una persona che ha un bisogno latente e per farlo dobbiamo creare contenuti di valore contenuti rilevanti non pubblicità e sempre si deve partire dal posizionamento che è il coraggio di saper di no il coraggio di scegliere la propria nicchia e oggi grazie agli strumenti digitali la nicchia ha un valore enorme perché non è più solo una questione di dimensione di fatti i vegani a Milano sono 700.000 e in Italia sono 3 milioni e grazie agli strumenti possiamo andare a raggiungere esattamente per interessi e comportamenti inoltre il digital marketing è test perché le dinamiche di acquisto cambiano di continuo e se non le comprendiamo usciamo dal mercato e infine che poi decidiamo di scalare il mercato tenendo assolutamente in considerazione che oggi il percorso di acquisto e di informazione non è più lineare ma è sempre più un circolo di micro momenti e stimoli in definitiva il digital marketing non è questione di tecnologia ma di analisi di empatia della capacità di mettere le persone al centro della nostra strategia per approfondire come fare puoi visitare il sito designmarketing.info o leggere il libro